Giornata importante per gli studenti stabbiesi impegnati nella prima prova dell'esame di maturità 2013. Ai nostri microfoni le interviste ai pochi allunni che hanno immediatamente terminato lo scritto d'italiano. Alle 14 infatti la maggior parte degli studenti era ancora in classe perché baragliano tutti i pronostici della vigilia il MIUR ha proposto delle tracce molto particolari. Come è andata questa prima prova di italiano? È risultata un po' difficile rispetto agli altri anni. Noi eravamo abituati con le simulazioni della prima prova e erano molto più facili. E tu in particolar modo qual è scelto? La tipologia B, il saggio breve. E invece tu che cosa hai scelto? Anche un saggio breve sulla crisi che comunque era inerente anche a quello che porterò all'orale. Quindi voi due siete stati un po' fortunati forse nell'uscita di queste tracce? Sì, sì. Per me è stato molto facile anche perché gli altri erano improponibili. Per te invece? Anche, le altre erano da escludere a prescindere. Bene, nonostante le tracce non erano proprio semplici, in particolare l'analisi testuale non è uscito nessuno scrittore conosciuto come Pirandello, Pascoli, quindi ho optato per il tema scientifico che era sul cervello. Io penso sia andata abbastanza bene. Grazie. 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 Grazie.